Comico Terreni, sindaco di Lari ma anche di Cacciana Terme, questa esperienza a due, questo tre di union, insomma, come sta funzionando e se ci sono dei problemi naturalmente da limare immagino e da risolvere nel corso del tempo del mandato? La fusione tra Cacciana Terme e Lari è un'esperienza importante che dobbiamo ancora tutta costruire. Chiaramente ci sono un po' di intoppi, di cose da sistemare e dalle mare che implicano un efficientamento della macchina amministrativa al quale ci siamo messi a lavorare sin dal primo giorno dopo l'insediamento. Noi lavoriamo nell'interesse dei cittadini perché possano avere un comune che costi meno, funzioni meglio di come funzionavano i due comuni originari e che quindi crei le condizioni per un nuovo sviluppo. Sappiamo benissimo dei problemi che al governo hanno creato per la soppressione appunto di certi capitoli che non possono essere utilizzati. Nel caso in cui appunto lo Stato dicesse via, si possono utilizzare appunto Mirco Terreni sindaco e la sua giunta dove investirebbe? Noi siamo in una situazione fortunata diciamo rispetto agli altri comuni perché proprio grazie alla fusione il nostro comune nasce fuori dal patto di stabilità per i primi tre anni quindi non abbiamo limiti agli investimenti se non quelli ovviamente di avere i soldi. Per noi le priorità sono sostanzialmente due, la viabilità e le scuole. E da queste cominceremo il nostro lavoro dei prossimi cinque anni. Lari da creare attenzione proprio sul suo centro storico o da svilupparlo nella piana dove il percorso è più facile? E Cascianaterme è anche due parole su questo paese e dove svilupparlo? Io considero questo un comune unico quindi non c'è Lari-Cascianaterme ma c'è Cascianaterme-Lari. Io credo che le tre località principali che sono Cascianaterme, Lari e Perignano hanno vocazioni regate allo sviluppo economico importanti e complementari che dobbiamo fare in modo di sviluppare in sinergia e non in maniera alternativa per cui uno sviluppo produttivo nella zona pianeggiante dove già c'è un nuovo importante e turismo, cultura e agricoltura nel resto del territorio. Mirco Terreni, da piccolo sognavo di, oggi sono sindaco. No, da piccolo sognavo di fare l'avvocato. Non c'entrava nulla col sindaco. La passione della politica c'è sempre stata, i miei genitori me l'hanno trasmessa che pur non avendo mai fatto politica attiva facevano parte della cosiddetta cittadinanza attiva quindi mi hanno insegnato l'amore per la cosa pubblica e la voglia di mettersi a disposizione per dare il proprio contributo. Ho seguito questa strada e eccoci qua. Grazie. Grazie.